Si cerca di fare cultura innanzitutto, di portare in giro un po' di arte, un po' di scultura, pittura nelle sue varie forme. Secondo lei gli artisti avrebbero bisogno di una maggiore attenzione anche di un posto tutto loro? Sì, questo è un'ora dolente sinceramente, non solo della città di Lecce ma un po' di tutta la provincia, perché per poter trovare dei posti dove esporre i quadri sinceramente si fa un po' di fatica. Avremo bisogno di essere proiettati un po' di più per quanto riguarda l'arte, noi pittori salentini, in quanto è tradizione leccese quella di avere molti pittori, sia a Lecce che provincia, che ce ne sono stati abbastanza. Quindi sarebbe ideale un evento a livello veramente nazionale o anche internazionale che mettesse in risalto la vostra creatività. Sì, però purtroppo per questo non abbiamo il manager che ci possa accomunare, cioè che ci possa guidare, quindi tutto ciò che facciamo lo facciamo da noi, cercando di organizzarci con collettive sia a Lecce che in provincia e se capita anche fuori dalla Puglia dove ci possono ospitare. Per questo stiamo cercando dei riferimenti e un affiatamento maggiore con l'idea di tutti di poter andare avanti, perché da un po' di tempo abbiamo iniziato queste collettive per smuovere un po' gli animi leccesi che sono stati, devo dire, con i miei 45 anni di pittore abbastanza inclini all'arte salentina. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!